Il passaggio è avvenuto, la maggioranza di centro-sinistra guidata da Fabio Scionti ha un nuovo consigliere nelle sue fila. Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, il consigliere di Alternativa Popolare Nino Caridi, eletto in consiglio con la coalizione guidata da Roibiasi, passa con il sindaco Scionti e lo fa in apertura di consiglio con una dichiarazione. La sua comunicazione ufficiale è stata preceduta dalla lettura di un documento politico di coalizione letto dal primo cittadino dove si parla essenzialmente della motivazione del passaggio. I cittadini, legge il sindaco in aula, hanno accordato il loro voto all'attuale consiglio con la speranza di essere governati con continuità, trasparenza e lungimiranza. Non hanno chiesto beghe e ripicche, non hanno chiesto contrapposizioni personali, non hanno chiesto vendette e ritorsioni. Non è giusto, aggiunge il primo cittadino, ed è moralmente irresponsabile porre fine alle nuove speranze sulle quali i taurionovesi hanno riposto tutta la loro fiducia. Il sindaco parla anche di diversità nell'affrontare la crisi. Quando alcuni mesi fa la crisi numerica della maggioranza che aveva vinto le elezioni si è palesata ufficialmente, si è riscontrato un nuovo modo di affrontare il mutamento del quadro politico istituzionale, registrando il coraggio del sindaco il quale senza attentennamenti ha portato la questione direttamente nell'aula consigliare e non in sedi di partito o abitazioni private, come magari avvenuto in passato. Ed ecco la parte finale in cui si legittima l'operazione di trasbordo. Il percorso attuato ha dato segni incoraggianti, dice il sindaco, e i continui confronti con chi ha dimostrato di volerci stare, con chi ha dimostrato di avere a cuore l'avvenire della città, hanno portato ad una sintesi programmatica con alternativa popolare, presente in consiglio con il suo rappresentante Antonio Caridi. La maggiore attenzione richiesta da alternativa popolare nei confronti del decoro urbano, dei giovani e dei professionisti torionovesi, dei commercianti e delle aziende cittadine e dell'agricoltura sono ampiamente condivise dal sindaco, dai partiti e movimenti politici e dai gruppi consigliari che al momento sostengono l'amministrazione scionti. Alternativo popolare avrà responsabilità nell'organo esecutivo istituzionale, spiega ancora il sindaco, e sarà cura mia perfezionare tempi, modi e competenze del nuovo esecutivo. Poi è toccato a Nino Caridi, emozionato e teso, legge la sua dichiarazione, spiega che la decisione arriva dopo una lunga e profonda riflessione. È consapevole che la scelta porterà ad aspre critiche, ma la consapevolezza di agire nell'interesse collettivo, chiarisce ancora, mi ha fatto maturare questa decisione. Caridi continua sostenendo che anche restando all'opposizione ho collaborato per fare tante cose per la città. Oggi è venuto il momento di prendere una posizione netta e l'ho fatto. Il solo pensiero di rimettere la nostra amata Tauria Nova, dice ancora, in condizione di subire un nuovo commissariamento, solo ed esclusivamente per Beger e rancori personali, mi pone molte difficoltà a continuare a sedere tra i banchi della minoranza. Ecco il motivo vero, forte, che mi spinge a schierarmi con il sindaco e la sua maggioranza. Non mi vergogno, afferma ancora, di questo mio passaggio e non permetterò a nessuno di mettere in dubbio la mia rettitudine morale e politica per una decisione presa in piena coscienza, soprattutto per il bene e l'interesse della nostra Tauria Nova. Incassato il nuovo consigliere, arrivano i saluti di benvenuto dai vari consiglieri presenti in aula. Mancano soltanto il gruppo di Roi Biasi ed è assente anche Cettina Nicolosi. Si alza prima Francesco Forestieri, poi Francesco De Marco, Dario Romeo per il PD e Pino Falletti, capogruppo del Partito Democratico. Polemici due dissidenti di Impressa Calabria, Filippo Lazzaro, pur facendo gli auguri, parla di salto della quaglia, di contraddizioni nell'azione i consigliari di Caridi, evidenziando il prima e il dopo degli innamorati di Biasi. Maria Stella Morabito, nel rivolgere gli auguri a Nino Caridi, parla di avere coraggio di passare con la maggioranza, cosa che io non ho avuto nel restare. La nuova maggioranza, riveduta e corretta, passa alla prova provando tutti i sei punti su sette dell'ordine del giorno. Il presidente del Consiglio Comunale, Fausto Siclari, scandisce quel fatidico numero 10, numero effettivo della nuova alleanza consigliare, che non si sentiva da tempo. Da evidenziare l'abbandono dell'Aula dei consiglieri di Impressa Calabria, Maria Stella Morabito e Filippo Lazzaro, in polemica con il sindaco e il presidente del Consiglio, Fausto Siclari.